Domanda e risposte sui sui gelli 630324M Saluti nel nome del Signore Gesù Cristo Oggi è il 2 settembre 2023 Questa lettera è dal fratello Joseph Branham in Jeffersonville, Indiana Caro fratello Branham Credo con tutto il cuore che sia il settimo angelo messaggero di Dio inviato per chiamare fuori la sua sposa Tu sei la voce di Dio con il così dice il Signore per il mondo Credo che tu sia colui al quale egli ha scelto di rivelare tutti i misteri della Bibbia Credo a ogni parola che tu dici sui nastri Ho una domanda nel cuore che vorrei farti Ci sono così tante persone, così tante voci che dicono tante cose diverse su quelle che dobbiamo fare per essere la sposa di Cristo Io voglio essere nella sua perfetta volontà Io voglio Avere fede perfetta Non sono contro nessuno Ma voglio sentire quello che tu dici Cosa riunirà la sposa e ci darà la fede rapitrice di cui abbiamo bisogno Credo che tramite quei sette tuoni saranno rivelati negli ultimi giorni allo scopo di radunare la sposa per la fede rapitrice Fratello Brana I sette tuoni che equivalgono ai sette misteri sono stati già rivelati Sono stati rivelati nei sette suggelli Ma ci sono ancora sconosciuti come i tuoni? No Furono rivelati nei sette suggelli Ecco quello che erano i tuoni Dovevano rivelare i sette tuoni che avevano fatto dire le loro voci E nessuno poteva comprendere cos'era Giovanni sapeva cos'era Ma gli fu vietato di scriverlo, disse Ma il settimo angelo Nei giorni del suo suonare I sette misteri dei sette tuoni saranno rivelati E il settimo angelo è un messaggero della settima epoca della Chiesa Gloria a Dio Ecco la mia risposta Il mistero dei sette tuoni è stato rivelato È la voce di Dio sui nastri e ora sta radunando la sposa E ci sta dando la fede alla piettrice di cui abbiamo bisogno Grazie fratello Brano per aver risposto alla mia domanda Sapevo che la risposta alla domanda che avevo nel cuore sarebbe stata sui nastri Questo è tutto ciò di cui ho bisogno sapere Continuerò a premere play ogni giorno A ricevere ancora più fede rapitrice Venite a ricevere fede rapitrice con noi questa domenica alle ore 12 Ora di Jefferson Bill Quando ascolteremo domande e risposte sui suggelli Fino alla prossima volta Alla stessa volta Dio piacendo Dio vi benedica E Shalom Dio vi benedica Alla stessa volta Dio vi benedica 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 Dio vi benedica